stiamo parlando del più grande atleta del secolo noi tendiamo a dire che il più grande atleta del novecento sia Muhammad Ali perché noi abbiamo visto Muhammad Ali poi ognuno ha i suoi, ci sono i Michael Jordan chi volete voi ma secondo l'ABC che è americana però sostanzialmente capisco il principio il più grande atleta dell'epoca o meglio del secolo si chiama Torp e ci sono degli argomenti Torp parteciperà alle Olimpiadi del 1912 sì ma la storia di Torp inizia prima Torp è da un punto di vista genetico per cinque ottavi un indiano viene da quello che oggi noi chiameremo Central Oklahoma dal lato paterno è per metà irlandese e c'è una parte francese dal lato materno ma all'epoca lo si riteneva a tutti gli effetti un indiano questo non è un atleta di più a scuola così così però sin dall'inizio furono gli stessi indiani a dire ma tu in un'altra epoca quando noi contavamo in sto paese saresti stato un grande guerriero tenete presente che lui tra i suoi antenati ha il grande capo Black Hawk falconero quindi questo qua comunque va del sangue molto particolare e adesso facciamo un giretto nell'America dell'inizio del secolo abbiamo visto come con Drew questi qua abbiamo fatto fatica non è detto che sia vera la storia dello sprinter ma qualcosa c'è stato ma per com'è questo qua improvvisamente non concorre o magari ha avuto mal di stomaco, qualsiasi cosa però la vicenda è un po' sospetta dai e quanto ci si possa attaccare alla vicenda sospetta ce lo racconta sostanzialmente la storia di Thorpe Thorpe riceve una proposta per andare all'università di Carlyle che sarebbe in Pennsylvania non era una scuola come le altre questa era una scuola di de-indianizzazione il generale Henry Pratt l'aveva aperta nel 1879 con l'idea di americanizzare i nativi americani o meglio di togliere la parte indiana e inserire quella che loro ritenevano una cultura superiore arrivato a Carlyle qualcuno disse però sto indiano non so se avete notato è ben strutturato e provarono a seguire se poteva essere inseribile in un programma sportivo lo fecero saltare in alto dove lui non era educato al salto in alto e partiamo subito con un bel 1,75 con sforbiciata qualcuno dice beh è buono è buono buono tu con le palle come te la cavi per esempio questa qua pizzuta che serve da correrci assieme quando giochiamo a football o quella del beso bene bene guarda con gli zii indiani ne facevo di questi colpi l'allenatore della sua università un certo Warner detto Pop dice senti io ti metto in una scuola di football vediamo come va nel 1911 Carlyle batte Harvard Syracuse e Pennsylvania che come avete notato sono quelli che innervano la squadra americana che va alle olimpiadi e c'è una partita straordinaria nella storia di Torp perché la squadra vince 27 a 8 contro Army cioè la scuola di football dell'esercito Torp segna 22 dei 27 punti e manda fuori dal campo un certo Eisenhower dopo un tackle si quel quel Eisenhower Dwight Eisenhower I like Ike we like Ike grande generale futuro presidente tanto è vero che nel 1961 in un celebre discorso Eisenhower ricordò proprio Torp descrivendolo come il più grande atleta che non si allenava perché non aveva bisogno di tutti i tempi e adesso sentitela questa frase perché ci interessa anche nell'attualità ovvero sia re di Svezia quando lo premia dopo che lui ha stravento la gara di Pentate di Decathlon gli dice lei è il più grande atleta del mondo ma Jim non era pronto a una cerimonia non gli uscì praticamente niente tranne thank you king grazie re la vita di Torp era una vita piena di ingenuità lui non conosceva la malizia dell'uomo bianco in senso stretto aveva una visione del mondo di colloquialità e generalità che per l'epoca era già sproporzionata immaginatevi come sarebbe oggi però oggi se lui fosse un atleta contemporaneo Tiger Woods e Jordan insieme avrebbero metà del suo fatturato dal punto di vista dei contratti pubblicitari perché lui poi vinceva ogni gara in qualsiasi sport non era un problema dicevi regolamente questo perfetto e lui vinceva il problema fu che tornato negli Stati Uniti fece quello che facevano tutti gli studenti universitari che giocavano a baseball ovvero sia durante l'estate giocava per soldi si guadagnavano dai 25 ai 45 dollari a settimana ma tutti gli atleti collegiali americani lo facevano sotto falso nome lui con la sua ingenuità tipica di un uomo del genere lo faceva col suo nome un giornale americano il Worcester Journal pubblicò la notizia che lui stava giocando per soldi la notizia arrivò al comitato olimpico che decise di recuperare le due medaglie perché lui era sostanzialmente un professionista Torple diede indietro le medaglie e dall'inizio ha una sua discesa tremenda dal punto di vista umano anche perché i soldi del baseball servivano ad aiutare la sua famiglia che potete immaginare comunque è una famiglia indiana sta vivendo un nuovo mondo e bevono 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 tutti e la vita scorre come non vorrebbero e lui vuole salvare avendo la possibilità di farlo i suoi familiari diventa un'icona nel football diventando addirittura presidente della Lega che poi darà vita all'NFL ma la sua vita progressivamente scivola verso l'alcol e verso una sorta di autoannientamento si dice che nel 1932 all'Olimpiade di Los Angeles fosse fuori al Coliseum mentre si disputavano le gare solo affamato e sostanzialmente ubriaco la sua storia declinerà verso il nulla ma non verso l'oblio pensate che la sua terza moglie mandò la salma a un paese della Pennsylvania che decise di chiamarsi Torp Jim Torp da allora le medaglie verranno restituite in un secondo tempo tramite l'opera di Samarank famoso presidente del CIO il ricordo di Torp non verrà mai cancellato ed è certo che questo sia stato il più grande atleta del novecento